Ciao, noi stiamo lavorando su un progetto di un centro di accoglienza da collocare in un'area archeologica a nostra scelta. Questo lo facciamo in previsione all'esame di Stato. Il nostro procedimento è realizzare delle tavole prima disegnate con un inserimento ambientale, la distribuzione delle varie zone in un determinato edificio e una visione tridimensionale. Poi, dopo questa prima fase di bozzetti, andremo a portare tutto il nostro lavoro sul computer, usando programmi tipo AutoCAD per il bidimensionale e Rinocero SketchUp per il tridimensionale, per poi realizzare delle tavole in grandi formati con i nostri progetti generali, Sì, è in 2D che è in 3D.